Abbiamo bisogno della comunità, di sentire la comunità che ci fa capire che non siamo soli qui a combattere e questa è una guerra molto brutta e quindi bisogna essere tutti solidali contro un nemico che insomma forse è veramente più grande di noi, di quelle che sono le nostre forze collettive dicevo come comunità, non solo di Villa Serena. È una ferita per noi che non credo si rimarginerà, è affranta la direttrice della casa di riposo Villa Serena di Montaione qui si continua a morire di Covid, 17 per ora i decessi tra gli ospiti ma sono tanti i positivi in una struttura che tra ospiti e operatori conta 250 persone, più o meno 100 quelle risultate positive. Per quello che si sa adesso di questo virus non riuscire a difendersi, come secondo lei, come è stato possibile? Come è stato possibile? Queste sono strutture, tutte le RSA Toscane non sono ospedali, sono strutture nate per la vita per le relazioni, per i contatti, quindi già stare chiusi tutto quest'inverno, non avere contatti eccetera però poi quando il virus si entra non è che ci sono nuclei completamente separati l'uno dall'altro il personale. Ma hanno tutti la mascherina? Certo c'è la mascherina, però non basta perché ci sono comunque operatori che lavorano su più piani, non è come a livello ospedaliero che c'è ogni nucleo, ogni reparto isolato dagli altri. Qui dentro, insomma, è come tutte le RSA, insomma, la situazione è questa.